Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come censurare in videopad editor video ovviamente ne ho fatti veramente tanti di video su videopad editor video quindi tante guide su come usare questo programma un programma veramente professionale abbastanza facile quindi più ci smaniti sopra e più impari ad usarlo quindi in questo caso in questo breve tutorial ti spiego come censurare in un video su videopad editor video quindi in questo caso andiamo sul nostro videopad editor video quindi io voglio censurare una scena facciamo caso voglio facciamo l ok taglio questa clip metto un'altra faccio un'altra l qua prendo questa scena vado su effetti video scendo fino a giù fino a trovare censurare clicco sopra come puoi vedere c'è la sfogatura perché qui c'è scritto tipo di censura sfogare nero pixel facciamo i pixel e la mettiamo qua sotto ok come puoi vedere posso ridimensionare così il quadrato e per tutta questa scena questa parte qua sotto è censurata ok quindi non era difficile censurare sul videopad editor video se ti interessa la sfogatura usa la sfogatura oppure il nero andiamo a vedere il nero com'è il nero proprio non si vede intensità censura ok proviamo lo mettiamo qua per il semplice fatto che può dare fastidio un nero su questo video quindi un colore nero su questo video direi di metodo di più pixel ed eccolo qua quindi se questo video ti è stato utilissimo su come censurare il suo videopad editor video iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao